la trasmissione sta per iniziare ok direi che inizieremo da qua dopo ok direi che ci siamo buonasera a tutti e benvenuti sul canale conoscere linux io sono giovanni colasante dell'associazione appunto conoscere linux e stasera siamo al secondo appuntamento che vede a confronto due tecnologie andremo a vedere un confronto tra java e python che sono due linguaggi di programmazione lascio le presentazioni alle due persone che difenderanno i due linguaggi e a luca zomparelli che ha l'onere di presentare all'associazione dato che è il presidente allora un attimo che passo microfono buonasera a tutti come mi ha presentato giovanni sono luca ho l'onore di essere presidente dell'associazione cosa fa conoscere linux di solito si occupa di presentare e cercare di diffondere le tecnologie open source ci occupiamo sia di linguaggi programmazione e stimi operativi ovviamente linux è il prevalente e poi anche tutti quanti quelli che sono gli accessori e le utility da ufficio come gimp e inscape blender per la grafica 3d insomma facciamo corsi di vario genere ed eventi per la promozione del dell'open source in genere e questa sera come ha detto giovanni ci occuperemo in realtà di due linguaggi di programmazione a confronto e cercheremo di capire quale dei due può essere più adatto per alcune scelte e quale dei due invece può essere adatto ad altre scelte e non parleremo di quale è il linguaggio migliore perché secondo me è un concetto che non è corretto ma più che altro quale dei due si adatta meglio magari alle esigenze che in questo momento abbiamo noi e io oltre a essere presente dell'associazione mi occupo di sviluppo lavoro in ambito industriale e faccio il programmatore da più o meno vent'anni quindi di tecnologia ne ho viste un pochino e ovviamente farò quello che presenta python perché è quello che utilizzo tuttora a lavorare e vi presenterò un po' quello che è il quadro di quelle che sono state le mie esperienze in merito io sono edward sono un associato appunto dell'associazione conosce linux sono qui per portare alle difese di java che ho per cui ormai sono tre anni e qui uso il lavoro e tanti altri tramite il percorso scolastico e universitario lavoro in un'azienda di sviluppo web tutto tecnologia backhand in java questo quanto allora guarda lasciamo direttamente la parola a verdi così introduco la prima domanda la prima domanda è se ci può introdurre un po' il linguaggio di programmazione quindi a fattispecie java un po' la sua storia o l'evoluzione o lo stato dell'arte in cui si trova in questo momento qua allora per iniziare java era nato come un linguaggio che doveva partire dal cp più presumo che probabilmente era nato per la era uno dei primi linguaggi interpretati questo consentiva di non lavorare su una piattaforma unica come era ai tempi come cp più a di lavorare su su varie piattaforme il nome per chi lo vuole sapere deriva dalla marca di caffè che bevevano gli sviluppatori ai tempi infatti anche il simbolo è una tazza per quanto riguarda l'evoluzione java è cambiato molto ultimamente infatti adesso attualmente quando stiamo parlando la versione lts quella supportata è la 11 dalla 9 è cambiato la metodologia in cui lasciano le nuove versioni fino a fino alla 9 appunto era ogni tanto quando avevano pronto tutto un pacchetto di sviluppo rilasciano una versione che poteva essere dai 3 4 5 anni invece adesso dalla 9 hanno cambiato ogni sei mesi c'è uno c'è sempre una nuova versione poi adesso sono meno corpose ci sono poche cose però questo permette rispetto a prima che era molto difficile seguire l'andamento del linguaggio e iniziare già imparare le nuove feature che offre il linguaggio cosa che prima lo scoprivi solamente una volta dopo il rilascio infatti anche per questo punto vorrei sottolineare che ad esempio da java 5 a java 6 o java 7 c'erano molti più cambiamenti molto drastici cose che adesso una differenza tra java 9 e java 10 sono praticamente ce ne sono però non sono da considerare molto non cambiano molto prima di passare a python solo un inciso hai citato lts se ci spieghi brevemente che cosa significa perché magari lts riguarda il supporto che offre oracle per java perché appunto java ha una versione proprietaria una no che entrambi seguono oracle ci sono anche altre versioni ultimamente stanno nascendo molte versioni di altre di altre aziende molto valide e quella principale di oracle offre supporto per dieci anni direi e ne nasce una ogni tre anni quindi lts indica il periodo in cui indicativamente il periodo di vita del linguaggio ok adesso passiamo la parola invece a luca per quanto riguarda python e la domanda è la medesima ok allora python è un linguaggio di programmazione che è stato ideato da guido barrossum la prima versione risale più o meno al 91 il nome viene dai monty python che erano diciamo quelle serie di film sono un gruppo di registi attori eccetera inglesi e siccome guido barrossum era molto appassionato ha preso il nome da loro python in realtà ha delle radici un pelino più vecchie perché comunque risale fino agli anni ottanta venendo da un linguaggio che si chiamava abc le intenzioni di guido barrossum che comunque ha pubblicato subito in maniera open source il suo lavoro erano quelle di creare un linguaggio che fosse molto semplice che fosse di alto livello quindi non un linguaggio come può essere il C o il C++ e fosse facile da imparare e queste sono le caratteristiche che di fatto hanno portato python al successo cioè in effetti sono le parti chiave di python la versione 2 di python è arrivata più o meno nel 2000 e adesso siamo arrivati alla versione 3.7 l'ultima ufficiale in lavorazione della 3.8 la versione 2 è particolare perché ha introdotto due concetti abbastanza importanti in python uno è quello del garbage collector quindi questa tecnica che viene utilizzata in diversi linguaggi di non deallocare immediatamente le variabili ma di farlo con il contatore praticamente delle istanze che tu hai di contatore a questa variabile quindi c'è un sistema sotto in background che decide lui quando è ora di disallocare la memoria l'altra cosa importante che è stata introdotta è la list comprehension in pratica è una tecnica che ti permette da una lista di oggetti già esistenti di ricavarne un'altra con una metodologia e una sintassi che tra l'altro il compilatore gestisce in maniera particolare ottimizzandola e quindi questo ha aiutato molto a un incremento di prestazioni diciamo che c'è stato un altro momento storicamente importante che è stato circa nel 2008 quando è stata pubblicata la versione 3 la versione 3 si staccava dalla versione 2.7 e ha fatto il primo grosso stacco dal punto di che non era retrocompatibile in realtà la cosa è stata introdotta da molto tempo sono state fatte librerie che permettevano di verificare la compatibilità con la versione del futuro addirittura c'è la possibilità di fare from future import per poter importare funzioni che non erano presenti nella 2.7 per poter avere il codice compatibile però diciamo che le due versioni non erano il codice scritto per la 2.7 non funzionava con la 3 e c'è da dire che tutt'oggi nonostante siamo passati un po' di anni la versione 2.7 è ancora un po' utilizzata era molto diffusa per un sacco di utility e di librerie sviluppate e quindi è ancora utilizzato tutt'oggi c'è da dire che a gennaio dell'anno prossimo il supporto ufficiale che comunque da quando è uscita la 3 è stato solamente per l'aggiornamento di sicurezza e verrà accessato completamente e quindi sì se uno vorrà mantenersela dovrà farlo scaricandosi i sorgenti e gestendosela da solo insomma e come dicevo stiamo aspettando la versione 3.8 che è quella prossima che dovrà uscire Intanto grazie Passiamo alla seconda domanda che riguarda di che tipologie di linguaggio di programmazione stiamo parlando cioè in che categoria rientra Python e Java prima Edward citava interpretato così diamo come dire uno specchio una fotografia un po' più esatta a chi sente parlare per la prima volta di Java e Python rimango sempre con Luca con Python così ok Python è anch'esso un linguaggio interpretato tant'è vero che direttamente a degli sorgenti passando diciamo quello che mi ha chiamato il modulo c'è il file .py direttamente al compilatore di Python può essere eseguito al volo sicuramente è un linguaggio chiamato multiparadigma cioè è possibile sia e farlo anche all'interno dello stesso programma utilizzare sia funzionale che procedurale che comunque è anche un linguaggio ad oggetti si usa dire che Python non sia tipicizzato cioè praticamente lo si dice perché non è necessario dichiarare le variabili in realtà ha una tipicizzazione un po' particolare utilizza la DAG typing che praticamente consiste nel fatto che non vengono utilizzati tanto i tipi di dati ma più che altro i metodi e le proprietà che questi dati offrono quindi se un certo metodo che noi chiamiamo ce l'ha un oggetto di tipo intero piuttosto che un oggetto di tipo stringa se è lo stesso funziona non viene controllato il tipo di dato poi c'è il dynamic typing perché praticamente è possibile comunque appunto durante l'esecuzione del codice creare la tipologia del dato in base al dato che gli viene assegnato la variabile prende la tipologia e questo ovviamente ed è l'obiezione che più o meno tutti fanno a Python non aiuta tantissimo il debug obbliga diciamo ad utilizzare una notevole autodisciplina per strutturare bene il proprio codice e fare in modo che nonostante si possano fare tante chiamiamole scorrettezze queste poi vanno a svantaggio del debug o comunque alla risoluzione dei problemi durante il rilascio delle applicazioni insomma questo però ha dei risvolti positivi che sono poi risvolti che hanno aiutato tantissimo Python nella sua diffusione e negli ambienti in cui viene diffuso cioè il fatto che è più veloce scrivere un codice dove tu non devi dichiarare le variabili e quindi questo qua ti avvantaggia tantissimo e l'altro aspetto molto importante di Python è la sua sintassi infatti ha una sintassi che è veramente ridotta all'osso è molto semplice è molto lineare si dice che assomiglia un po' al linguaggio naturale anche semplicemente come si scrivono le condizioni e i cicli assomiglia molto come li pronunceresti in inglese insomma e poi la tecnica di annidamento che da un lato obbliga a dover scrivere il codice in maniera ordinata perché le indentazioni sono quelle che regolano diciamo l'inizio e la fine delle strutture come possono essere le funzioni, i cicli o le condizioni e in più diciamo non devi mettere un terminatore o usare graffe o altri simboli particolari per dire che una certa struttura è finita semplicemente vai a capo torni indietro di un rientro e tutto è fatto e quindi questo diciamo tutto quanto indirizzato a uno degli aspetti che Guido voleva inserire nel linguaggio che è appunto la semplicità Perfetto, adesso giriamo la domanda sempre ad Edward che è la stessa identica Mi appoggio molto sui punti che ha fermato su Python Per quanto riguarda la sintassi Java era nato come successore del cppu quindi per chi ha programmato in c o cppu si troverà molto comodo per quanto riguarda più punteggiature e cose simili poi ovviamente Java è un linguaggio fortemente tipizzato questo vuol dire che bisogna scrivere bisogna che ogni operazione abbia coincida con i tipi cioè tutti i tipi in Java devono avere un passaggio che deve essere consentito dal compilatore altrimenti non compila Quello che vorrei sottolineare di Java appunto che per quanto diceva prima di Python che è molto semplice di scrivere Python Java credo che abbia proprio lo scopo opposto non ti permette di scrivere codice semplicemente perché vuole che tu quando scrivi dal codice scrivi esattamente... tutti i passaggi devono essere ben chiari questo capisco che crea dei problemi ad esempio che ad alcuni punti spesso se no hai un tipo hai bisogno di un altro tipo ti tocca scrivere tutto quel codice inutile per passare da un tipo all'altro e ci capita molto spesso che tutti questi c'è tutti questi giri di oggetti inutili che sicuramente in Python puoi evitare io personalmente in Java non lo vedo come un punto a sfavore nel senso se sto scrivendo tutti questi passaggi molto spesso è perché voglio che il codice faccia così spesso in altri linguaggi vedono queste famose magie dove in Java no Java pretende dallo sviluppatore che venga scritto il codice in un certo standard in un certo modo così ha anche un po' magari da evitare come parlavano per Python l'autodisciplina nel senso ci deve essere una disciplina che lo decide il linguaggio e a cui la gente si può appoggiare ok ne approfitto per aggiungere una domanda Edward abbiamo parlato di linguaggio di programmazione più tipizzato quindi cerco di tradurre per chi magari chi non è dentro cioè a differenza di Python prima di assegnare un valore a una variabile questa variabile deve avere un tipo mi pare di capire coerente col valore che stiamo cercando di inserire in questa variabile ok e giusto? se vuoi spiegare esatto se vuoi fare giusto qualche esempio così adesso questa è una cosa molto banale e il compilatore è così banale che te la semplifica però stampare un numero in Java non se non è un primitivo poi c'è un discorso sotto però in generale non stampi il numero direttamente ma ci deve essere una conversione del numero in stringa perché tu tutto quello che stampi su un terminale deve essere una stringa esatto quindi ci sono sempre bisogna sempre convertire i tipi starà da ok che tra parentesi questi vincoli aiutano a evitare delle volte di stampare dati in maniera non corretta poi quando tu scrivi il codice ti aiuta hai questo tipo sei sicuro che quello che stai facendo è corretto? perfetto chiarissimo allora andiamo avanti la prossima domanda riguarda un po' le categorie di applicazioni che è possibile sviluppare con i linguaggi di programmazione che oggi presentate e immagino che un po' si possa sviluppare in tutti i campi quindi se preferite ridurre un po' all'eccellenza ai settori in cui eccelle il vostro linguaggio di programmazione benvenga altrimenti diversamente come meglio preferite a voi Luca per quanto riguarda python allora python diciamo che con una smodata quantità di librerie sia di quelle standard che di quelle comunque di terze parti effettivamente consente di poter spaziare in qualsiasi ambito e sia diciamo quello che può essere l'ambito delle applicazioni web sia front-end che back-end la realizzazione di micro servizi applicazioni desktop applicazioni scientifiche data mining machine learning cioè tutto quello che bene o male il parco di tutte le applicazioni e ci sono io direttamente o indirettamente ho toccato con mano librerie sviluppate per quasi tutti questi ambienti e devo dire che sono ottime librerie in quasi tutti gli ambiti è difficile dire no python serve per sviluppare i micro servizi no perché ci sono delle librerie per il machine learning e il data mining che sono incredibili e quindi diciamo che quello che fa effettivamente forte python è che essendo così semplice da usare e la comunità di sviluppo delle librerie è cresciuta a una velocità incredibile e questo lo rende potentissimo e poi diciamo che un altro aspetto che lo rende abbastanza comodo è il fatto che lui è preinstallato su tutte quante i siti operativi Unix-like e quindi un pochino come può essere utilizzato come linguaggio di batch quindi se tu vuoi utilizzare per farti degli script di manutenzione di backup di qualsiasi cosa sul tuo PC è sicuramente una scelta ottima perché rispetto magari a scrivere un batch classico offre ovviamente un linguaggio più ad alto livello e ti permette di avere più comodità e tant'è vero che alcune distribuzioni Linux lo utilizzano degli script scritti in Python per mantenere la pacchettizzazione della distribuzione stessa poi un altro utilizzo che viene fatto spesso di Python è quello di incapsularlo all'interno di altre applicazioni faccio l'esempio non so di Blender dove tu puoi scrivere gli script in Python dentro Blender lo puoi fare con Gimp se vuoi scrivere i filtri ci sono un sacco di altri linguaggi che lo hanno integrato dentro questo perché anche proprio nella documentazione ufficiale viene presentato in maniera chiaro come è possibile sia integrare Python dentro ad altre applicazioni sia come diciamo sviluppare altre applicazioni dentro Python che è poi la metodologia con cui vengono sviluppate moltissime librerie questo diciamo che è un pochino il panorama di tutti quanti gli utilizzi che io conosco di Python effettivamente diciamo forse gli ambiti in cui non è eccessivamente utilizzato è quello della realizzazione di applicazioni desktop eccetera anche se per esempio ci sono alcuni casi d'eccellenza cioè l'interfaccia grafica di Blender è comunque tutta configurata tramite script Python anche se comunque sotto è scritto ovviamente penso in CIO C++ sicuramente gli usi maggiori che ci sono attualmente sono quella dei microservizi e poi magari parlerò più avanti delle librerie in particolare comunque c'è un framework molto importante che permette di sviluppare applicazioni web e poi siccome effettivamente è così semplice è stato un po' adottato in ambito scientifico e quindi non so per esempio al CERN o comunque a tutti i centri di ricerca importanti lo hanno adottato come linguaggio principale e quindi con tutto il parco di librerie che ci sono viene utilizzato proprio moltissimo in ambito scientifico io per parlare un po' del di come viene utilizzato java volevo trarre esempio che viene spesso citato contro java l'hello word quando viene fatto cioè quando vengono comparati i linguaggi java porta al suo hello word che per scrivere un hello word adesso in python una riga direi ecco in java non è possibile in java bisogna minimo direi una quindicina di righe per fare un hello word come mai perché java è un linguaggio orientato agli oggetti e infatti si vede quando scrivi l'hello word prima cosa che ti chiede in quale pacchetto lo vuoi lo vuoi inserire questo codice tutto già tutto codice java richiede che ogni ogni classe venga inserita in un modulo così da strutturare tutto tutto il codice in moduli oltre al modulo ti chiede anche una classe non vuoi iniziare a scrivere codice se non hai la classe un linguaggio orientato agli oggetti pretende da te che tutto quello che scrivi sia una classe quindi già così inizia anche a capire che non non pretende che tu magari fai un non so un sistema di backup uno script di backup veloce vuole che organizzi il tuo codice con tutte le classi quello che è richiesto e i vari tipi ho visto gente che lo usa proceduralmente non è quello lo scopo di java e anche per scrivere proprio per stampare python metodo print stampi java richiede che invochi il sistema lo standard output e poi gli dici stampa in questo standard ha proprio già nell'utilizzo anche solo semplice proprio sotto si vede l'architettura quindi quando mi quando mi dicono dove lo utilizzeresti quando penso a java penso sempre a architetture quindi a sistemi magari aziendali dove bisogna fare del codice molto si organizzato che deva rispettare certi standard non cose veloci o da fare in casa per piccoli lavoretti mi viene da pensare che già a livello di struttura java ti impone o ti orienta verso prodotti chiamiamolo così più di classe enterprise e meno come dire artigianali forse questo è corretto questo si ma forse sono più le librerie che sono poi nate dopo non è proprio il linguaggio anche il linguaggio ha molti però si poi ci sono adesso per chi conosce java maven e gradel che infatti fanno anche proprio delle strutture di come strutturare il codice non si limitano anche soltanto a mi basta un modulo però si ultimissima poi dicevi che sviluppi per lavoro in java un settore in particolare su cui per esempio stai sviluppati in java web adesso java essendo molto aziendale adesso le aziende non puntano più a fare sistemi desktop che hanno tutte le si portano molte problematiche dietro ma le aziende si stanno più spostando sul web e le aziende appunto vogliono sistemi che magari devono stare ventiquattro ore sette giorni su sette funzionante senza problemi che magari java ti permette magari di ridurre i bug ci sono sempre sicuramente non mano via però java ti permette almeno di ridurli hai controlli sui tipi quindi dovrebbe aiutarti in questo perfetto bene passiamo alla prossima che riguarda il supporto del vostro linguaggio di programmazione sui vari sistemi operativi e la domanda è in questo senso qua cioè se nativamente sono già supportati su tutte le piattaforme che possiamo trovare in circolazione e laddove ci sono vincoli se c'è modo di invece avere supporto allora python essendo anche lui un linguaggio interpretato è già nativamente è strutturato per essere poi portato su vari sistemi operativi e di fatto lo è cioè assolutamente multipiattaforma e vabbè come dicevo prima nativamente è già installato su tutte le macchine Unix-like che questo vuol dire anche tutto il mondo Mac e addirittura anche nel mondo Mac è utilizzato per alcuni tool di manutenzione dentro al sistema operativo stesso e esistono gli installer e comunque vari modi per comunque utilizzare python anche su windows su Linux ovviamente è presente ed esistono anche alcuni porting in ambito di microcontrollori ovviamente lo puoi usare su un raspberry piuttosto che anche su microcontrollori di tipo più piccolo e inoltre oltre a questa cosa qua esistono ad esempio una libreria abbastanza importante che è PyInstaller che ti aiuta anche a poter distribuire la tua applicazione e senza dover installare framework o librerie o altre cose in pratica ti creano un pacchettino che può essere anche semplicemente zippato e questo appoggiato su una qualsiasi applicazione su quel sistema operativo lo lanci e va quindi non ha bisogno neanche di installare librerie o comunque non va neanche diciamo a sporcare il sistema operativo come tipo di distribuzione e oltre a questo diciamo esistono anche dei porting di Python che non si basano sul compilatore standard ma sono ad esempio Iron Python e mi sembra ce n'è un altro che si chiama non so se si chiama Gton con la J in pratica hanno portato l'interprete di Python dentro la libreria .NET e quelle Java e quindi diciamo che un po' invada il settore esatto diciamo che questi queste cose un po' particolari consentono di utilizzare la sintassi di Python ma avere sotto le librerie diciamo di altri framework come sono appunto i .NET e quello di Java e allora Java per quanto lo conosco l'ho sempre visto usare in ambito desktop o comunque server quindi non so per la parte micocontrollori se è utilizzato o meno credo che però ci sia molto sviluppo quindi direi di sì però sì non sono molto informato poi che sistema aperto di supporta essendo appunto un linguaggio interpretato ovunque dove gira la Java Virtual Machine quindi se hai installato quella codice funziona sicuramente Windows Linux e macOS hanno le proprie distribuzioni per altri linguaggi non cioè per altri sistemi non sono molto informato ok aggiungo una domanda a differenza di Python che Luca citava che generalmente lo si trova già installato l'utente dovrebbe installare qualcosa si ci sono del ma non so Windows esce già con qualcosa Linux in generale allora direi di no direi che Windows neanche Linux abbiano già preinstallato hanno normalmente la cosa che ti consigliano quando ne hai bisogno è di installare il Java Updater che è questo programmino piccolino che ti fa tutti gli aggiornamenti perché Java viene molto aggiornato molto spesso per sicurezza e quindi ti consigliano di installare questo dove sia installato Java che anche il sistema di aggiornamento di Java la prossima domanda riguarda un po' come dire i settori commerciali dove è un po' più presente diciamo tra i vari tra i vari che si ne possono trovare in giro quindi se c'è qualche che prima per dire veniva citato Python in ambiente scientifico giusto per tirare un esempio e dare Java ha un un settore dove magari eccelle non so mi viene in mente i settori bancari piuttosto che industriali eccetera un po' per rispondere a questa domanda sono andato un po' a vedere quali erano le librerie più usate così magari da trovare anche una libreria che non so che rappresentava tutti i settori che coinvolgeva il risultato è stato particolare perché le prime tre librerie più usate in Java la prima è per trasformare oggetti Java in JSON quindi un Marshaller un Marshaller quindi direi che l'ambito web sia ovviamente il prevalente la terza più utilizzata è stata il framework spring che è il framework per ecce non so se ci siano molte varie alternative però sicuramente è molto potente e ha molte ti permette di fare molte cose a livello web questo framework viene molto utilizzato e permette di scrivere molto velocemente codice Java e al secondo posto un po' particolare magari è JUnit che è la libreria di test Java oltre a scrivere il codice si dovrebbe mettiamo tra virgolette si dovrebbe poi non viene spesso fatto scrivere il codice che testa il codice prima il test poi il codice giusto qualche uno perfino dice perfino prima il test prima quindi anche questo un po' anche per rafforzare il il fatto di scrivere del buon codice in Java però direi che prevalentemente adesso Java è utilizzato per i web Per quanto riguarda Python è un po' come accennavo prima nei vari ambiti di utilizzo così credo che l'ambiente scientifico sia sicuramente quello dove viene maggiormente utilizzato e attualmente penso che dato che tra l'altro è uno dei settori di maggiore espansione è quello di machine learning dove anche qui è presentissimo e e poi è abbastanza utilizzato anche nell'ambito della sicurezza informatica perché comunque ha un discreto numero di librerie che ti consentono di fare test appunto sulla sicurezza attacco difesa eccetera ecco un altro ambito dove sicuramente è molto utilizzato è quello dei microservizi quindi dei servizi che vengono fatti come back-end tanto è vero che comunque penso sia ancora uno dei linguaggi più utilizzati da Google che direi che è uno dei quelli che offre un quantitivo di servizi abbastanza elevato e per esempio anche un'altra cosa che magari tutti quanti sanno è che Dropbox adesso un po' sta cambiando ma era quasi completamente sviluppato in Python e quindi insomma stiamo parlando comunque di realtà abbastanza conosciute e importanti non di piccole applicazioni quello che dicevo prima comunque dell'ambito io ad esempio lavoro in ambito industriale non lo si trova tantissimo tant'è vero anche noi in azienda lo utilizziamo più che altro come per lo sviluppo di framework web per comunque centralizzare configurazioni di macchine o cose di questo tipo non viene utilizzato per l'automazione in sé anche se comunque qualcosa c'è ma non è sicuramente un settore centrale per il Python bene invece mi è parso di capire adesso dopo questa breve chiacchierata iniziale che comunque non esiste solo il linguaggio di programmazione ma intorno al core dei vostri linguaggi di programmazione Python e Java siano nate diverse come chiamiamo realtà librerie dalla community piuttosto che da aziende che hanno investito quindi la domanda va un po' in questa direzione qua preso Python preso Java intorno nell'ecosistema quello che come dire ha senso citare perché sono diventati pacchetti librerie moduli citava Edward davvero davvero importanti ho sentito Django ho sentito Spring per quanto riguarda Java quindi la domanda va un po' in questa direzione qua che cosa c'è intorno ai vostri cosa c'è all'interno degli ecosistemi dei vostri linguaggi rimango con Luca ok allora per quanto riguarda Python credo che in assoluto il framework più importante conosciuto e che tra l'altro da anche più riscontri indietro verso Python sia Django Django è un framework veramente potente ha il motto di dire insomma per perfezionisti con deadline effettivamente cioè volendo uno in dieci minuti ti butta su un'applicazione web e non lo dico per scherzare insomma è ovvio che poi se uno vuole insomma abbellirla sistemarla eccetera ci devi lavorare però se ti accontenti di quello che ti offre la libreria come tipo di interfaccia eccetera è veramente potentissimo e come citavo prima c'è Pystaller che è un'altra libreria che adesso sta prendendo abbastanza piede che serve per la distribuzione delle applicazioni Python è multipiattaforma anche se non consente il cross compiling cioè quindi tu se vuoi fare un eseguibile per Windows devi farlo da Windows per Linux su Linux so che c'è qualche esperimento in tal senso ma non ho visto niente di ancora molto stabile e un'altra libreria molto importante è quella di Sphinx che è una libreria che serve per generare la documentazione del proprio codice in effetti scrivendo i commenti all'interno del proprio codice Python in una certa forma Sphinx è in grado di parsare tutto il codice e di creare in formato pdf o sito o altro una documentazione comprensiva di tutte le librerie e di quello che si è sviluppato e l'ho utilizzata ed effettivamente è impressionante perché dà dei risultati anche professionali in pochissimo tempo insomma e poi vabbè sicuramente come ho detto uno dei settori di punta è quello del ambito scientifico quindi una libreria importantissima che in realtà è una suite di librerie quella di ShaiPai che contiene Matplotlib NumPai insomma Pandas tutto un sacco di librerie che consentono di lavorare appunto con molle di dati molto grandi fare operazioni insomma su matrici e cose di questo tipo e poi ci sono librerie altrettanto importanti come ShaiKit Learn e PyTorch che permettono di fare del machine learning e anche di utilizzare la GPU per quindi fare elaborazioni abbastanza pesanti e dopo vabbè se vogliamo passare l'ambito invece grafico quindi applicazione desktop possiamo avere PySide dove adesso sta la Qt Foundation sta diciamo la Qt Company sta lavorando molto pesantemente quindi la sta supportando in maniera attiva e quindi permette di utilizzare la grafica di Qt all'interno delle applicazioni Python oppure c'è un'altra libreria che si chiama Kiwi che permette di realizzare applicazioni prevalentemente per cellulari e comunque in ambito touch ha già tutta una serie di controlli predisposti per poterli insomma per adattarsi al touch e al multitouch e tutte queste tecnologie insomma per quanto allora per quanto riguarda il web appunto cito Spring sicuramente al primo posto anche lì l'idea è di sviluppare siti non so se in dieci minuti è fattibile hanno un target forse un po' più grande non siti così piccoli mi sembra poi non dico che non sia fattibile poi cito sicuramente Maven o Gradel che sono il gestore delle dipendenze ma non solo permettono anche di fare operazioni in ambito di deploy oppure di building se non utilizzare mille 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 plugin per fare mille mille cose poi è stato citato anche per la documentazione c'è javadoc che è già integrato direi in java quindi se ho usato una certa sintassi in classi metodi questa verrà utilizzata per creare documentazione anche integrato in java c'è librerie grafiche desktop che sono avuti e la più nuova swing hanno come a livello visivo sono un po' old style diciamo però sono integrate e sicuramente sono comode da usare rispetto ad andare a cercare una libreria che faccia a caso vostro altre librerie grandi non me ne vengono in mente sicuramente esistono mille mila librerie piccole per fare tutte le operazioni che si hanno bisogno però non mi vengono in mente proprio da citare va bene perfetto invece adesso passiamo un po' alla domanda che tutti si pongono ma ma quanto van veloci no? quando si parla di prestazioni linguaggi di programmazione che vuol dire tutto e non vuol dire niente perché delle volte non c'è mai un riferimento però la domanda è in questi termini qua per le vostre esperienze perché mi pare di capire che in entrambi i casi lo avete usato lavorando e quindi non solo in teoria o la sera o per progetti personali in cui non vanno in produzione quindi voi avete esperienza sul campo che idea vi siete fatti delle prestazioni delle performance o o anche semplicemente dell'efficienza del vostro della vostra programmazione in ambito python e nell'ambito java e a luca allora diciamo che python non offre in generale prestazioni elevate se facciamo un benchmark di un'operazione fatta su un ciclo for tra python e java diciamo che python prende la paga tipo 101 giusto per capirci proprio non c'è un confronto possibile quello che offre sicuramente è che ha delle librerie scritte molto bene e quindi anche nell'ambito dei framework web eccetera sicuramente sono librerie che offrono prestazioni soddisfacenti però diciamo che usa quello che io chiamo trucchi cioè in sostanza siccome le librerie che vengono implementate messe a disposizione in python in realtà sono scritte in c o c++ ovviamente dopo lì c'è sorpasso se effettivamente noi abbiamo delle librerie come quelle che citavo prima per il calcolo scientifico dove vengono fatti i calcoli con matrici con n dimensioni con mole di dati da gigabyte e le macini senza problemi con un linguaggio poco ottimizzato sotto c'è il trucco infatti vuol dire sono delle librerie sviluppate in C dove che sono veramente molto ottimizzate e quindi alla fine per te il linguaggio python diventa semplicemente un comodo front end per poter poi armeggiare con un linguaggio di alto livello utilizzando però qualcuno che ci ha lavorato sotto e allora dice vabbè allora grazie perché non sviluppo in C.U.C++ perché alla fine diciamo storicamente le librerie che sono state create sono veramente ben fatte e sono integrate in una maniera che cioè usarle con python sono facili cioè questo è credo che sia il trucco che rende python così comunque appetibile soprattutto in ambiti come dicevo prima del machine learning o altro dove in realtà le prestazioni contano tantissimo e bastano direi di una virata ad aggiungere allora io per quanto riguarda le prestazioni a me ogni volta che me l'han chiesto non non ho mai saputo rispondere ma anche non mi sono messo mai magari a controllare un for quanto tempo ci mette però se mi le prestazioni non non le dà secondo me tanto il linguaggio come fatto ma il codice che scrivi se mi scrivi un for dentro l'altro stai attento che stai duplicando il numero di il numero di conti che stai facendo non è tanto il il linguaggio che lo fa più o meno veloce come prestazioni java invece è un è un ottimo linguaggio adesso non dico che è perfetto sicuramente scrivere codice c e cppu vai in a scheggia però per quello che ti offre per 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 questo forte tipizzazione che ti offre java secondo me cioè credo che sia il top come come prestazioni infatti viene usato anche in ambito web dove sicuramente anche lì le prestazioni devono essere sempre molto elevate poi molti si lamentano della memoria che utilizza perché in effetti essendo un linguaggio d'oggetti crei e distruggi mille mila oggetti ogni secondo ma stanno continuano sempre a ottimizzare cioè vedo che ogni volta che esce sempre una nuova versione di java c'è sempre una una miglioria riguardante le prestazioni quindi a livello prestazionale lo consiglierai poi con i suoi pro i suoi contro sì volevo soltanto aggiungere una cosa che volendo peggiore la situazione di python dal punto di vista delle prestazioni cioè che addirittura nel compilatore python abbiamo tenuto tra l'altro un talk qui poco tempo fa e non ci sono neanche le tracce dell'ottimizzazione cioè il vostro codice non è che mentre in altri linguaggi durante la compilazione magari il compilatore cerca di capire cosa volevi fare e di farlo in una maniera più ottimizzata magari come l'hai scritta tu con python no python lui esegue meramente quello che tu gli dici come lo dici tu e questo per cercare in realtà di mantenere una maggiore leggibilità e quindi anche questo è proprio un cambio di paradigma cioè nel senso non cerca la prestazione python cerca la pulizia del codice e la facilità di lettura che lo rendono appunto molto appetibile per certi aspetti anche se effettivamente non è come vi dicevo già usato puro non offre delle prestazioni così elevate insomma ok ne approfitto per eduardo un paio di domande in chiusura prima di passare quelle magari di chi è qua chicche spesso in ambito java si trovano acronimi del tipo jvm jre jdk eccetera se ci spieghi anche solo brevemente che cosa sono perché spesso si fa confusione immagino su che cosa mi serve per fare ok allora si tre che hai citato jvm sta per java virtual machine quindi la macchina virtuale dove verrai eseguito il tuo codice questa è quella che appunto installi ogni volta che devi usare java quella che appunto java updater ti mantiene aggiornata e eh si diciamo che forse è un po' il core di java c'è la jre quindi java runtime environment che è quella che ti permette dal forse questo non sono molto sicuro di il codice compilato eh di farlo eseguire nella tua macchina virtuale quindi è un po' il tramite che c'è in mezzo e la jdk quindi java development kit quindi è il quella che hai bisogno se tu stai sviluppando quindi ti trasforma il codice che scrivi tu in un codice compilato perché appunto che il linguaggio java interpretato vuol dire che prima lo compila in una sua in un suo linguaggio intermezzo e poi viene eseguito nascere invece ne ho un'altra invece per python che in parte in realtà Luca ha già risposto e cioè spesso si trova sempre questa diatriba python 2 python 3 ma è già accennato qualcosina quindi se ci fai solo un piccolo recap per chi non ha toccato python inizia col 2 inizia col 3 allora se uno vuole approcciarsi a python oggi comincerà con la 2 cioè a meno che non c'è proprio la libreria che ti serve per fare la tua cosa e non l'ha portata nessuno in 3 lo sconsiglio fortemente e adesso python è python 3 3.7 adesso sta per uscire il 3.8 come dicevo prima e come accennavo prima il supporto a gennaio nonostante sia stato già rinviato diverse volte perché comunque diciamo la il quantitativo di persone e comunque sviluppatori che lavoravano con la 2.7 e 2.x perché anche versioni anche più vecchie era veramente elevato perché già la diffusione era così elevata per cui un sacco di strumenti anche di manutenzione dei sistemi operativi o di framework o di altro erano sviluppati e non tutti li hanno portati diciamo sulla 3 velocemente molte librerie adesso supportano entrambe le versioni sia la 2.x che la 3x però secondo me c'è ancora una drossa differenza intanto a livello comunque di prestazioni perché se la 3.x comunque dicevo non offre prestazioni elevatissime in confronto ad altri linguaggi però la 2.7 è ancora peggio insomma perché sono state fatte un po' di ottimizzazione all'interno del linguaggio in sé le hanno fatte e poi sì comunque le librerie principali ormai lavorano sulla 2.x e portano avanti quella ecco secondo me consiglio mio partite con la 3.7 e andate avanti ok allora approfitto per una battuta finale a tutte e due e cioè oggi voglio iniziare a programmare java un consiglio che daresti a un neofita che inizia oggi anche solo si sicuramente concentrati su questo e non sulle altre cose beh credo che più che altro java è la programmazione ad oggetti è proprio tutto un altro paradigma che ha i suoi pro i suoi contro però quando programmi in java non stai più programmando procedurale che vuol dire non non pensi a io devo non lo so eh colorare un'immagine ok prendo l'immagine che ho la color poi la la salvo su disco no si trasforma in ho un oggetto colore ho un oggetto immagine come parlano come funziona il loro dialogo ok quindi il proprio il paradigma secondo me che bisogna imparare più che il linguaggio in sé ok Luca un consiglio invece da parte tua e vabbè il primo consiglio è sicuramente di andare su youtube a seguire vedere i corsi dell'associazione sì ok e poi a parte questo diciamo che secondo me allora python è ottimo se tu non conosci altri linguaggi e cominci a guardarlo perché rispetto ad altri linguaggi secondo me offre diciamo funzionalità un po' fuori dagli schemi cioè anche come mentalità e modalità con cui lavori con certe cose è un po' particolare adesso per fare un esempio strano che anche se è un concetto un po' avanzato ci sono questi decoratori che sono questi questi diciamo con un tilde e alcuni alcuni nomi che poi sono in realtà delle funzioni che tu puoi appiccicare sopra le classi o le funzioni riesci a stravolgerne il funzionamento e insomma sì esatto esatto e cioè in realtà ci sono delle cose molto particolari che se uno insomma le approfondisce un po' offrono degli spunti diciamo per come scrivere il proprio codice in maniera molto sintetica e molto chiara che è poi uno appunto delle cose che aveva in testo poi Guido quando l'ha implementato e sicuramente il primo consiglio che do più importante di tutti è se pensate di fare una funzione che fa una cosa particolare fermatevi cercatela perché il 90% l'ha già fatta qualcun altro ed è già magari anche nelle librerie standard ok perfetto allora intanto ringrazio i due relatori perché siamo arrivati quasi al termine dell'ora quindi ringrazio Luca Zumparelli e ringrazio Edward e fermiamo qua facciamo qualche domanda prendiamo ancora un'altra decina di minuti ok se qualcuno ha delle domande una domanda da ignorante allora passiamo qua riusciamo a passare il microfono ma una domanda che è stata fatta è qual è la differenza tra java e javascript allora ripeti la domanda ok la domanda che è stata fatta è qual è la differenza tra java e javascript allora in tutto java e javascript sono due linguaggi completamente diversi l'unica cosa che hanno in comune è l'ideatore di javascript che è stato così simpatico da decidere appositamente di chiamare il suo linguaggio javascript per essere confuso con java ah ok quindi sì sono completamente due linguaggi diversi hanno solo il nome in comune è proprio stato deciso così per far confondere la gente javascript che viene usato per fare delle cose su web sì javascript è un altro linguaggio anche quello interpretato che è sì è lo standard del web ok qualcun altro fai sì facciamo sì allora chiedevo visto che per java ci sono varie ide per cui ad esempio ne abbiamo più ne ha più ne metta e con anche la possibilità di sviluppo di interfacce grafiche e gestione a parte del codice lato server eccetera eccetera su python ho visto poco e nulla forse un ninja ide il massimo che allora questo per certi aspetti forse è un pochino una nota dolente ma entro certi limiti io personalmente uso eclips e uso pydev è una libreria fatta molto bene e credo che abbia tutti gli strumenti che servono per diciamo sviluppare in python io utilizzando anche un po' interfacce grafiche con qt eccetera quello che sicuramente manca è un ide che ti permetta di disegnare interfacce grafiche in un ide integrato eccetera e vabbè molto spesso diciamo uno dei motivi per cui uno lo fa facendolo in python è per avere un qualcosa di più flessibile quindi io spesso in realtà scrivo io il codice che mi genera le finestre in maniera dinamica però altrimenti uno può utilizzare poi ovviamente l'ide di qt per sviluppare le applicazioni eccetera esatto per sviluppare interfaccia grafica esatto poi la può compilare viene trasformata in una classe python e dopo viene lanciata eccetera è una metodologia non particolarmente lineare cioè per quanto funzioni molto bene però sì sicuramente ci sono cioè se uno usa non so viso studio ok non c'è confronto ok e ci sono altri ide c'è esempio eric che è un ide abbastanza conosciuto e ho conosciuto molti sviluppatori python che usano vim e ci sono c'è jedi appunto che è una libreria che comunque da una composizione la compilazione un sacco di opzioni da ricai di comando questo è un po' compreso dal punto di vista del fatto che spesso viene utilizzato come linguaggio di scripting lato server e quindi è meglio a volte usare degli idei molto poveri per poter comunque fare del debug anche in remoto anche se in realtà lo puoi fare anche con eclipse di collegarti in remoto e fare un debug su una macchina e non c'è niente di support di supportato ufficialmente o di proposto ufficialmente comunque da dagli sviluppatori dalla fondazione che c'è dentro python sono tutti quanti progetti nati un po' così da loro insomma e un altro utilizzato anche se comunque è semi proprietario cioè dato con licenza community ma è proprietario è Pysharm che utilizza cioè è abbastanza comodo conosco diversi ragazzi che lo utilizzano ed è abbastanza usato insomma anche questo diciamo che ad esempio quello che l'esempio che faccio io quello di eclipse può sembrare un po' diciamo legnoso all'inizio perché comunque eclipse è un framework abbastanza cioè un'idea abbastanza corposo è scritto in java certo esatto e però in realtà offre tutti gli strumenti l'altra cosa carina è che poi io sviluppando anche in altri linguaggi a volte in cpp o altro con eclipse hai fatto che insomma puoi portarlo usarlo con varie cose insomma vuoi aggiungere qualcosa edward? ma io sicuramente il miglior ide per python è scritto in java no io per quanto riguarda ide ho sempre ho sia provato netbeams che eclipse però non mi sono mai quindi hanno sempre hanno sempre qualcosa che non andava sempre una configurazione mancante bisogna quando ho provato intelligenti la prima volta mi sono innamorato devo dire che esegui se manca qualcosa ti esce la pop up dice ti manca questo ok ti manca questo ok 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 tre volte e poi funziona è un attimino più benvenuto per la parte di web server perché si crea il suo ambiente con i cartadesigni eccetera eccetera però così eviti magari di sporcare quello che è l'ambiente di produzione si si questo lo fa anche eclipse si io lo trovo una cosa molto comoda si però sei sicuro che almeno se hai configurato il tuo in qualche modo che poi non è compatibile con quello che hai scritto facendo sempre un ambiente pulito io mi ci trovo meglio si poi si no poi sicuramente ci sono mille mille problemi e e crash poi una volta ogni mille però sicuramente anche i suoi problemi però devo dire che mi ci sono trovato molto bene come semplicità di configurazione per far partire rispetto ad eclipse che spesso non so come si configura maven dove trovare tutto quanto faccio faccio più fatica a trovare però va bene su internet design mancano anche un po' l'interfaccia in data si quello credo che netbeams è quello che ti offre proprio il designer integrato che era molto comodo qui adesso l'interfaccia grafica in java non so se vengono ancora molto usate quindi magari forse per questo che non ci puntano molto nemmeno ok qualche altra domanda posso fare un'altra assolutamente sì e python python a uso industriale esempio di applicazioni interfacciamento con macchinari plc modbus protocolli chiedevo dato che non ho visto tanto nella mia vita purtroppo chiedevo come si poteva utilizzare in quest'ambito allora diciamo la domanda è l'utilizzo di python in ambito industriale con i vari bus eccetera e allora non è probabilmente presentissimo adesso cioè non è sicuramente uno dei più utilizzati esiste però ad esempio un prodotto che si chiama industrial shield che offre dei pannelli che sono dei touch già integrati con i raspberry dentro e che offrono quindi all'interno della programmazione in python che sono le librerie classiche che si utilizzano di solito per sviluppare su raspberry e fatto in una scatola un po' più industriale oltre ad avere già delle librerie con delle sorti di plc fatte con l'arduino e con tutte le porte e hanno già un firmo all'interno per essere utilizzati con maio remoti o cose di questo tipo io ad esempio ho utilizzato le librerie per i modbus tcp che esistono siccome funzionano abbastanza bene e ho visto che esistono per esempio dato che io sono anche uno sviluppatore diciamo di labview per le national instruments anche dei porting dei driver per le schede national instruments fatte in python e ho visto qualche timo tutto un tentativo di fare degli scada ma delle cose veramente quasi imbarazzanti insomma e per adesso non ho visto ancora niente in questo senso l'utilizzo che ne faccio io in realtà è quello di realizzare un'applicazione web di fatto che poi io vado ad integrare attraverso delle api e quindi mi c'interfaccio con i software che sviluppo stand alone sulle macchine abbiamo fatto qualcosa e anche come proprio come motore per lavorare le logiche dei programmi eccetera però alla fine siamo andati verso direzioni più conosciute e più supportate in generale insomma python l'abbiamo comunque delegato a quello che è tutto diciamo il framework per lo sviluppo e per il mantenimento dell'infrastruttura qualche altra domanda sicuramente è stato accennato un discorso però mi è sfuggito se esisteva una libreria sicuramente se esiste una libreria per la creazione di esegubili in python puoi ripetere la domanda a Luca ripeto la domanda allora se esiste una libreria per la creazione di esegubili in python ne esistono in realtà diverse io ne ho provate alcune ma secondo me quella che attualmente la migliore è pi installer come dicevo prima consente di creare degli esegubili sia facendo una cartella con dentro tutte le librerie e un esegubile che lancia poi il proprio programma oppure di fare un file unico che è un esegubile unico che su all'interno porta tutto se uno fa ad esempio il file singolo io ad esempio l'ho sia deployato per windows che per linux uno prende il file lo copia sulla macchina di destinazione lancia l'esegubibile e va non ha bisogno di installare nulla è molto comodo e ovviamente ad esempio se si usano molte librerie siccome lui usa una tecnica dove ovviamente le librerie le ha zippate all'interno c'è un minimo di tempo perché lui deve scompattare lo zip diciamo e poi lanciarle il programma la start up è proprio iniziale esatto però ci sono poche librerie in cui utilizzare il file unico che è un'interno sì esatto altrimenti è meglio diciamo uno mantiene la cartella che è già scompattata comunque anche la cartella basta appoggiare la cartella e lanciare l'esegubile contenuto non c'è bisogno di installare nulla quindi non c'è necessità di installare i runtime di python o librerie o meno quindi in realtà uno sporca neanche il sistema operativo poi lo toglie come se fosse successo nulla Sì credo di sì adesso io non ho mai non ho avuto esperienza non l'ho mai utilizzato so che però ci sono degli altri ragazzi dell'associazione che lo usano però sì sì credo che lo sviluppo stia andando avanti insomma cioè che sia supportato ancora siccome la domanda non si è sentita la domanda era se era ancora supportato Saiton si 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 qualcun altro? niente allora gli direi di chiudere qua la nostra oretta di chiacchierata ricordo che sul canale c'è tutto il corso di python correggimi Luca se sbaglio convinceremo Edward a farci vedere dei pregi di come si programma decentemente senza fare cose strane e niente io ringrazio tutti i partecipanti i due contendenti e spero che sia stato tutto molto chiaro buona serata famerite grazie a tutti grazie a tutti Grazie.